A Novi Ligure è stata presentata la nuova campagna informativa sulla raccolta differenziata. Sentiamo, Enrico Mariano. È in arrivo nel Novese, nel Tortonese, nel Lovadese e nell'Acquese una nuova campagna informativa per sensibilizzare la cittadinanza verso la raccolta differenziata. Alessandro Scaccheri, presidente di SRT. Nel dettaglio di cosa si tratta? Si tratta per la prima volta nella nostra storia di realizzare una campagna di tre anni molto capillare che vuole toccare tutti i mezzi, i canali di comunicazione per informare il più possibile, sensibilizzare veramente la cittadinanza a compiere la prassi della raccolta differenziata. Questa pratica della raccolta differenziata è diventata fondamentale per poter gestire il ciclo dei rifiuti. Le leggi comunitarie e regionali addirittura ci impongono di arrivare al 65% di raccolta differenziata entro il 2012. Il nostro bacino negli ultimi anni ha già fatto dei grossi passi in avanti ma ancora tanti ne deve fare. Iari Calderone, direttore del CSR. Quali saranno le tematiche più critiche su cui occorrerà sensibilizzare la cittadinanza e qual è il vostro programma di lavoro? Il settore più critico è la qualità delle raccolte. Noi purtroppo oggi ci rendiamo conto che questo è un aspetto principale perché investe il lavoro di molte persone che nel settore dei rifiuti operano quotidianamente. La nostra campagna si incentrerà oltre all'obiettivo di aumentare le percentuali di raccolta differenziata quindi sono obiettivi normativi da cui non possiamo esimerci anche di migliorare la qualità delle raccolte.